per quelli di voi che forse non conoscono la loro storia dal 1991 dopo un viaggio negli Stati Uniti d'America e dei Caraidi raggiunti 500 anni prima da Cristoforo Colombo e con comitanza dei grandi eventi sportivi America's Cup con il nord di Venezia e l'attraversamento dell'oceano atlantico con il fenomenale all'escafo destriero il dato d'accesso nel fiorio Maria e Filippo, attrata dal fascino di tale imprese subiscono forti stimoli creativi al punto di ideare e portare avanti un progetto artistico-culturale totem tra segni e realtà virtuale coinvolgendo personaggi e loghi in varie parti del mondo Raguse al centro di moto questo è il loro modo di utilizzare l'arte come linguaggio universale appagando il loro ego e il desiderio di porre Ragusa una prima che ne provano lo scopo Grazie.